E' erogato, ubriaco, aggressivo, pieno di sangue, addosso. Asseminato il panico, ferito una persona e un'altra è morta dopo la collutazione per un arresto cardiaco. La notte di Torre del Lago diventa tragedia quando una tentata rapina ai danni del ristorante Elefante Marino si trasforma nel lutto per uno dei due titolari, il 64enne Alberto Biancalana. Abbiamo chiamato la polizia subito perché non era ancora successo niente. Io ero dentro il locale mio, l'ho visto passare, ha bussato alla porta, ho cercato di entrare nel mio locale. Al chiede gli ho detto ma va via così e lui se n'è andato. Quando ho sentito un po' di schiamazze e di urla siamo usciti e con l'altro socio del ristorante siamo riusciti a mobilizzarlo. Però uno dei soci del ristorante ha avuto un malore e si è subito capito dall'inizio che era grave. Protagonista, un uomo di origini straniere, 33 anni, sul quale gravava da ormai due anni un divieto di ritorno a Viareggio che si è presentato sul lungomare in evidente stato di agitazione e ha cominciato ad importunare i locali rimasti aperti. Era partito a fare del male, l'aveva anche detto. Non aveva nessuna paura di nulla, ha detto che lui si è picchiato con 15 persone, ha spaccato una macchina. Io non so quello che ha fatto ma era pieno di sangue. All'arrivo delle monalti l'uomo è stato identificato, arrestato e portato in carcere a Lucca. Adesso rischia un'imputazione per l'omicidio.